lo zen è un metodo per riscoprire l'esperienza di essere vivi nato in india e in cina e introdotto in occidente attraverso il giappone benché sia una forma di buddismo mahayana non è una religione nel senso comune del termine lo scopo dello zen consiste nel provocare una trasformazione della coscienza e risvegliarci dal mondo illusorio dei nostri interminabili pensieri affinché possiamo sperimentare la vita così come nel momento presente